Non è possibile procedere con questi licenziamenti. Abbiamo pugnato i licenziamenti chiedendo sostanzialmente al Consorzio Gas di ripristinare i rapporti di lavoro, nel frattempo eventualmente di aprire gli ammortizzatori sociali almeno fino alla fine dell'anno, perché questo avrebbe consentito alle organizzazioni sindacali di avere un lasso di tempo più lungo per trovare delle soluzioni alternative.